Andiamo un po' qui sotto e dall'altra parte approfitto il fatto che la prima sia un po' peccicosetta per sentire le dita sulla schiena e questo è un po' peccato Grazie. E andiamo al sul passo. E adesso di nuovo, sono indecisa però, di crattaschino il pennello, tu cosa preferisci? Crattaschino? Il crattaschino? Questo qui è viola? Questo qui? Come questo da prima? Ah ok, hai scelto lei. Quindi, cominciamo. Ho un attaccato a una di capelli. Io sono strafissata con questo punto, perché è uno dei punti che mi lascia di più. Proprio, tipo qui. Sia qui. Anche 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 qui. e per l'altra parte questo è letteralmente tipo una taschina oppure secondo me può essere usato anche quando sia un gesso e si deve agitare da qualche parola, non fosse mai capitato ma mi faceva un ruolo rito un po' sul carico e adesso un po' a casa, apriamo un po' di onde e adesso un po' a casa e ancora un'altra volta e adesso un po' a casa e adesso un po' a casa e faccio il tracing sul tatuaggio e poi la buonanotte adesso andiamo a fare del tracing preciso con questa tazzina che la dai per fare le punte dello smalto bello complicato intanto provo a spiegarvi cos'è è una lingua esotica la legge mi dice è una specie di sottolingua del polinesiano tailandese e è un auguri di buonanotte ed è un auguri di buona vita in 1,2,3,4,5 campi diversi come amore come amore, lavoro immagino giusto famiglia è stranissimo provare a capire non so non so come anche sia composto una parola o una lettera perchè è totalmente diverso rispetto al nostro alfabeto per l'azienda terzo